Tutti desideriamo amare, ma soprattutto tutti desideriamo essere amati. Per questo motivo ho pensato oggi di proporre alla vostra attenzione il libro scritto da due psicologhe molto note sul web, Anna Maria Sepe e Anna De Simone, che hanno scritto D'amore ci si ammala, d'amore si guarisce, edizioni Rezzoli. Le due psicologhe, l'una venezuelana e l'altra napoletana, fondono nel 2012 una rivista web molto seguita, Psycho Advisor, nella quale affrontano problematiche legate alle relazioni sentimentali o comunque alle relazioni affettive e alla crescita personale. Nel 2022 pubblicano un libro di grande successo dal titolo Riscrivi le pagine della tua vita e attualmente sono in libreria con quest'ultima produzione. Il tema, come può immaginarsi, è quello legato alle dinamiche amorose, o meglio all'amore. Il libro si divide in tre macro aree. La prima è legata alla costruzione dei legami affettivi. In poche parole, noi siamo il frutto di relazioni precedenti, quindi le relazioni che istauriamo oggi con un partner o una partner sono relazioni che hanno la loro matrice in quella che è stata la nostra infanzia, in quello che è stato il primo rapporto significativo, il primo rapporto importante, quindi quello con i genitori o con quelle che noi consideriamo le persone significative nella nostra maturazione. C'è poi un secondo, una parte centrale del libro che è dedicata appunto alle dinamiche relazionali, o meglio, le dinamiche nelle quali si esplica quell'acquisizione di informazioni e di approccio alle relazioni, ha verificatosi precedentemente. Ci sono tanti esempi in questo libro, quindi oltre ad una elaborazione teorica, c'è la presentazione di tutta una serie di esperienze di persone che hanno vissuto determinate dinamiche e sono riproposte in modo molto netto e chiaro, anche utilizzando degli schemi per evidenziare quelli che sono gli atteggiamenti più consoni per riuscire a vivere una relazione soddisfacente e quelli invece disfunzionali. C'è poi un terzo capitolo, macro capitolo, che è legato all'autoaccudimento. In un certo qual modo, semplificando al massimo, potremmo dire che prima di amare l'altro dobbiamo essere in grado di amare noi stessi, ma questo processo di amore nei nostri confronti è legato sicuramente a una grande consapevolezza, quindi a un percorso che ci porta a rivivere, a rivedere, a ripercorrere tutte quelle che sono state le tappe significative della nostra esistenza, dalla nostra infanzia sino al nostro quotidiano. In effetti tutti abbiamo diritto a rinascere come il personaggio, o meglio la figura mitologica dell'arabba fenice, ma non dobbiamo prescindere da quello che è stato il nostro passato. Il passato non deve essere qualcosa che ci impedisce di andare avanti, ma deve essere un punto di partenza. Dobbiamo essere in grado di affrontarlo, di ripercorrerlo e di analizzarlo in una chiave completamente differente per poter riuscire ad avere delle relazioni affettive nel nostro quotidiano che possano essere per noi sicuramente motivo di felicità. Ultima notizia, chi volesse incontrare le due autrici saranno il 2 dicembre, quindi dopo domani, presso la sede della Mondadori di Nocera Inferiore in Corso Matteotti e quindi vi aspettiamo numerosi. Le autrici saranno lì per approfondire le tematiche proposte in questo libro e per rispondere sicuramente alle numerosissime domande che ci saranno. Alla prossima!